Marionina Castellone, una nuova sfida, eletta vicepresidente del Senato. Lei ha già scritto, interpreterò questo ruolo come ho sempre fatto sino a questo momento. Con grande impegno e mettendo al centro sempre il bene comune e il bene dei cittadini. Per me è un grande riconoscimento e credo che sia un bel riconoscimento per questo territorio che si vede rappresentato in una delle più alte cariche istituzionali. Una figlia dell'area nord che arriva in uno dei posti più alti, però continua ad essere anche una senatrice. Che cosa intende portare avanti in questo secondo mandato? Quello che abbiamo fatto in questi anni ma forse con ancora più forza e con un ruolo che sicuramente mi darà ancora più autorità. Quindi provare con tutte le nostre forze a riqualificare questa terra e a fare in modo che diventi da terra di rifiuti, da terra a volte di dimenticanza invece terra di opportunità, soprattutto per le imprese che qui devono investire sempre di più e per i tanti giovani di questo territorio che hanno la voglia e il coraggio di mettersi in gioco in questa terra. Partiamo!